Emergono importanti novità sui contenuti del ricorso in appello che la difesa di Matteo Cagnone ha presentato dopo la sentenza di primo grado. Il documento contesta in toto quanto sentenziato con i legali che indicano come il verdetto sia scaturito nonostante una serie di, a loro dire, incongruenze legate alla personalità dell'uomo. Incongruenze o meglio contraddizioni, in particolare nel punto in cui si definisce il dermatologo come una persona dagli evidenti disturbi di personalità che però sarebbe lo stesso stata in grado di commettere un delitto in completa lucidità e premeditando ogni passaggio. Per questo motivo è pronta una richiesta di perizia psichiatrica, clinico-psicologica su Matteo Cagnoni. Secondo i giudici il presunto omicida avrebbe sì dei disturbi ma tutto ciò non sarebbe stato certificato da diagnosi specialistiche. Se in primo grado è stato ergastolo si punta ora quantomeno a un'importante riduzione di pena con l'attenzione alta dopo la sentenza d'appello del caso Mattei dove l'omicida della donna ha goduto di attenuanti che molto hanno fatto discutere. C'è però un'altra questione che dà notizia in queste ore e cioè è l'improvvisa scelta di Cagnoni di nominare un nuovo avvocato difensore dando il ben servito al tandem Trombini dalla Haiti. Secondo quanto si apprende tale decisione era già stata presa da tempo ma si sarebbe concretizzata solo negli ultimi giorni. Il legale incaricato sta valutando se accettare o meno.